È serena, non ti dormi, è proprio casa sua, è un ambito familiare, lei ride, guarda la televisione, è casa sua. Sono trascorsi serenamente i primi giorni a casa di Cristina Rosi. La donna è tornata nella sua abitazione di Alberoro. La donna, oggi 39enne, nel luglio del 2020, venne colpita da un arresto cardiaco all'ottavo mese di gravidanza. Partorì Caterina con un taglio cesareo, ma le conseguenze neurologiche per lei e la piccola furono severe. Dopo un lungo periodo all'estero per ricevere le migliori cure, una degenza presso l'istituto di riabilitazione di Agazzi, è finalmente tornata a casa. Una casa però che non è più adatta alle sue nuove esigenze. Ad oggi la camera nostra della mia moglie l'ho organizzata per la Cristina. Sulla camerina che ho la bambina, sempre con la tata. La Cristina è uguale, va a siti da 24-26-24, c'è una tata. Io ora do al Montaverna con un lettino arrangiato e via. Perché purtroppo la casa è quella che è. Una casa non è piccola, però per le situazioni con casa non è adatta per noi. Lesioni personali gravissime. L'accusa che il PM Marco Dioni ha ipotizzato a carico di quattro medici. Ma il marito Gabriele non vuol parlare dell'intergiudiziario. Oggi spera soprattutto di riuscire a trovare una sistemazione migliore per la sua famiglia che finalmente si è riunita. Ho trovato una casa d'appoggio perché purtroppo anche io la mattina va a lavorare. Ho bisogno di dormire la notte. E un domani vediamo di trovare una sistemazione un po' più grande o un po' più comoda o più vicina a Cristina. perché io vorrei stare vicino a mia moglie. Abbiamo aperto questa raccolta fondi Ghost for Me per vedere se mi riesce a comprare questa abitazione più vicina possibile a Cristina.